La parodia dei balli della parella. No, veramente mi hanno detto, quindi che ti devo dire? A me ti è spiaciuto, perché io non copio nessuno, vabbè, comunque. Aspetta che detto io, non è nessuna parodia. Non ho capito. Ok, possiamo salutare? Sì. Ciao. Ci vediamo più tardi alle 18.30 con Hills, che tutti quanti mi dicono, quando è che fai Hills? Oggi, ciao. Ciao.